Per l'inizio della fase 2 dell'emergenza coronavirus, il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha scritto una lettera ai pugliesi in cui invita ad essere maggiormente responsabili e rigorosi nei comportamenti. Dai nostri comportamenti individuali dipenderà l'evoluzione dell'epidemia, rimarca Emiliano, che raccomanda di continuare a mantenere il necessario distanziamento sociale, uscire di casa per il tempo strettamente necessario, utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi, lavarsi spesso le mani ed evitare di portarle sul viso. Restano vietati gli assembramenti di persone e anche quando si andrà a trovare i propri cari bisogna adottare tutte le precauzioni. La Regione Puglia si è subito mossa per rifornirsi dei dispositivi di protezione individuale e mascherine necessarie al personale sanitario. Emiliano annuncia che comincerà anche la distribuzione gratuita di un milione e mezzo di mascherine di comunità per uso civile, partendo dai pugliesi che in questo momento vivono maggiori difficoltà economiche. La distribuzione sarà curata dai centri operativi comunali. Nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Foggia, CIS Capitanata, tra i vari interventi assume una particolare valenza il progetto della strada regionale 1 tratto Ponte di Bovino-Poggio Imperiale, un progetto atteso da decenni di impatto non solo per i Monti Dauni, secondo gli esperti, ma per l'intera Capitanata, messo a punto dall'ufficio tecnico provinciale che ha curato la stesura e la redazione del documento di programmazione dell'intervento. Con la trasmissione in vitalia del documento sono state attivate le procedure tese all'individuazione del soggetto cui affidare i servizi tecnici per il completamento dei livelli progettuali. Il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, a questo proposito ha dichiarato. La provincia, facendosi interprete della forte volontà espressa dalla stragrande maggioranza dei sindaci dei comuni dei Monti Dauni, ha posto l'esigenza del completamento della strada regionale 1, in quanto ciò è un obiettivo strategico per lo sviluppo dei Monti Dauni. Tutto ciò è necessario al fine di superare deficit infrastrutturale e aumentare la connettività del territorio del subappennino con quello del tavoliere del Gargano. Adesso, ha detto Gatta, dopo la fase progettuale l'impegno deve proseguire per intercettare la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'intera opera. Nella giornata di lunedì 4 maggio in Puglia sono stati registrati 724 test per l'infezione da coronavirus e sono risultati positivi 9 casi, 2 nella provincia di Foggia. Nessun nuovo contagio si è registrato a Lucera. La fase 2 è partita, ma da parte di tutti gli amministratori non manca l'invito alla prudenza. Il presidente Emiliano e l'assessore regionale trasporti Giannini hanno chiesto agli operatori dei trasporti di veicolare, a partire dai propri palinsesti di comunicazione ai passeggeri in arrivo in Puglia e provenienti da fuori regione, che tutte le persone rientrate per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio di abitazione o residenza hanno l'obbligo di comunicarlo immediatamente, compilando il modulo sul portale della regione Puglia o al proprio medico o all'operatore di sanità pubblica e devono restare in isolamento fiduciario per 14 giorni. Il sindaco di Lucera Antonio Tutolo ha prorogato diverse ordinanze in questa fase 2 fino al 17 maggio prossimo, dalla sospensione del trasporto pubblico locale alla riduzione degli orari del centro raccolta rifiuti, prorogata la chiusura anticipata delle attività, che sarà alle ore 19 per alcuni esercizi e alle 22 per ristoranti, bar e pizzerie, e prorogata anche la chiusura della villa comunale, di parchi e aree pubbliche. A causa dell'emergenza coronavirus, tutte le feste patronali previste in questo periodo sono rimandate al prossimo anno pastorale. Ma anche se i fedeli non potranno vivere il culto dei propri santi patroni partecipando fisicamente alla festa, le celebrazioni non mancheranno. Nella prima domenica di maggio Volturino festeggia in particolare la Madonna della Serritella, il cui simulacro viene portato in processione accompagnato da carri fioriti fino alla chiesa badiale del paese. Quest'anno non è stato possibile rinnovare la tradizione a causa appunto dell'emergenza sanitaria. Ma nel santuario della Serritella il parroco di Volturino, Don Antonio De Stefano, ha celebrato la Santa Messa preceduta dalla recita del rosario. Andata in onda in streaming su Facebook e sul canale TV di Telecattolica per permettere ai tanti fedeli di Volturino e non solo di onorare la Madonna della Serritella anche se solo a distanza e spiritualmente in occasione della sua festa. In questo tempo difficile la preghiera alla Madonna si è fatta più intensa perché con la sua intercessione venga superato questo momento di incertezza per tutti con fede e amore.